ma io non so capire se sta parcheggiando o se sta uscita signori è mezz'ora credo stia parcheggiando se mi tocca la macchina e cale la povera macchina bianca se potesse parlare vai vai signor vai 3 via signora marcia oddio la macchina mia signor un po' in mezzo alla strada oddio sta parcheggiando guarda che cucina è buona signor una spina di pesce cazzo di cane veramente comunque signor il volante serve per girare le ruote mh ma è che appesso quello che gli ha dato la patente no penso che non si esce più la sua situazione ah sta apposta ah muoci che sta buona ci si ci si passa ci sono spazio sicuro ci si è piaci ci si è piaci perpensate ma ma li puo spostare le mani di spost di spost quindi li puo' stai spostare le mani Ah, questo è anche a mettere YouTube. Grazie.